SONO RICCI LENZIO I soldi, il passaporto. Sono proprio nella merda. Benvenuti in Afghanistan. È bello essere qui. È tutta la vita che cerco una voce. Sai cantare? No. Hai scelto l'unica cosa che la mia boccuccia non sa fare. Ieri ho sentito cantare una ragazza. Deve essere il destino. Qui è proibito cantare. Ammazzeranno lei e anche noi. Devo andare a Kabul. Devo cantare. Ok, bella, ma voglio il 20%. Se credi nel suo talento, devi fare qualcosa. Signori, sono certo che conoscete Afghan Star. Afghan Star? Come è vostro X Factor? Chalima è straordinaria. Una voce magica. Dobbiamo farla arrivare in finale. Lei è la mia rivincita. Brava! Assalamu alaikum, roma tu l'hai baraccato. Parole sante, fratello. Inside Out, il nuovo progetto Disney Pixar che dà vita alle emozioni, ha decisamente conquistato la vetta del box office italiano, nel primo weekend di programmazione, raggiungendo un incasso record di 6,5 milioni di euro, che va ad aggiungersi al box office internazionale di oltre 761 milioni di dollari, però. È stato addirittura il migliore incasso d'esordio di sempre per un film Disney Pixar in Italia, superando altri amatissimi successi come Up e Ratatouille. Voi l'avete già visto? Vi piace? È diventato il vostro film Disney preferito? Fatemi sapere commentando qui sotto. Grazie per averci seguito, vi ricordo che c'è la nostra app da scaricare sia per iPhone che Android. Ciao a tutti!